Non è per Conidio, 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 Conidio! Il primo minuto a disposizione per lui, spera che arriva proprio nella sua zona, la sforbicione di Conidio è il gol, è il gol di Conidio! Non è un belong rapide ! Oh, I got a lot to say, don't wanna share it, but I got a lot pain, but I know, i know that you're pure I'm a disease E' un po' di mezzo, pallone che filtra, Odgar, poi Covidio! Siamo avuti su Prignoli, c'è il dettaglio dentro di Covidio, eccolo servito a Covidio! Facuto Covidio è 1 a 1, grande taglio per Argentino che mette in fondo al sacco alla prima shot! Baby, it's as you and me! Baby, it's as you and me! 3 al cross con il mercino staccano, non su secondo palo in merco con l'idio di testa! La mette nell'angolino, vantaggio Inter, ha segnato Facuto Colidio! Palla un po' corta per Monatieri, diventa buona per Colidio, in aria Colidio! La mette nell'angolino, al terzo tentativo! Applica il 모 но per B. È un po' corte di piazza del nostro C. Il evaluation è la sua pasta per P揚 placare C. Re Cundio Alla in mezzo di Colidio Il gol dell'Inter Bellanova va sul destro Cross atteso dentro Colidio La zampata Di Facundo Colidio Alla in mezzo